Ehi, quanta quanta gente c'è stasera, se ne fosse uno che mi si caga, ma che cazzo siete venuti a farlo, c'avete pure pagato la tessera. Quello è stato un chiacchierato, che è stato pure in mia fila, quell'altro lo fa qualcosa solo per il petto di io che c'ha fianco. E' prudente questa corda, si te guardate, ma provate, sei qui sopra le capi, sopra le capi, sopra le capi, sopra le capi!